Presidente, si può passare dalle parole ai fatti quando si parla di ambiente e soprattutto di un territorio come il nostro? Si deve passare dalle parole ai fatti. Stamattina noi ad esempio abbiamo effettuato il monitoraggio delle acque all'interno della campagna di Goletta Verde. Abbiamo trovato su 21 punti campionati 11 punti inquinati ed esattamente 10 punti fortemente inquinati e un punto inquinato. Tra questi punti c'è quello a destra della fortezza aragonese nel territorio della provincia di Crotone che noi troviamo puntualmente inquinato dal 2010 senza che appunto vengano presi dei provvedimenti con gli effetti che tutti possono immaginare sull'ambiente, sulla salute umana e anche sull'economia turistica. Quindi è assolutamente essenziale che le amministrazioni competenti facciano il loro dovere. Ci sono già dei passaggi che sono stati messi in essere ma non sono assolutamente sufficienti. Facciano il loro dovere, lo facciano in fretta, in un'ottica di prevenzione, di efficientamento dei sistemi di depurazione, di controllo degli scarichi illegali e quindi di risoluzione di tutte le criticità che ci sono. Vi confrontate con le istituzioni, con i comuni, con la regione per avere un'idea chiara e per vedere se colgono quello che è il vostro messaggio? Noi ci confrontiamo e cerchiamo un'interlocuzione con tutti coloro che ci ascoltano, a partire proprio dalle amministrazioni. Il nostro ruolo di associazione è proprio quello di sensibilizzazione, di denuncia, di controllo sociale attraverso meccanismi di cittadinanza attiva. Noi qui oggi siamo a Crotone, una città bellissima con un passato millenario e glorioso. Diciamo che questo non deve rimanere un passato ma dovrebbe essere anche un futuro possibile. Oggi individuerete anche il nuovo presidente di Legambiente Crotone? No, allora quella di oggi è una riunione propedeutica alla costituzione del circolo di Legambiente Crotone perché noi abbiamo voluto un percorso partecipativo il più possibile aperto alla cittadinanza. Quindi sarà convocata una successiva riunione che identificherà quali saranno gli organi associativi, quindi anche il presidente. Sono sicura che il nuovo circolo farà un ottimo lavoro perché questa città che ha enormi problemi ambientali ha comunque bisogno del lavoro delle associazioni e quindi anche del nostro lavoro, quindi del lavoro di Legambiente.